Si invocava chiarezza, si chiedeva di ricevere qualche comunicazione ufficiale da parte dei trasti e, a due giorni dall'ultima nota stampa firmata dagli stessi e diffusa dalla Seleritana, quasi si rimpiange il silenzio delle settimane precedenti. Prima e dopo il comunicato diffuso alle 17 di martedì scorso, in tanti hanno parlato, cercando una vetrina mediatica che pure, magari a sorpresa, hanno trovato su sponde geograficamente anche distanti, ma non si capisce a che titolo. Il punto è semplice. Se per la cessione della Seleritana di Trasti hanno imposto una linea, cioè massima riservatezza, non si capisce perché in tanti, prima e dopo il comunicato, abbiano voluto non solo esprimere un parere personale, cosa legittima anche se a volte etichetta ed opportunità suggerirebbero il silenzio, ma addirittura dare notizie. La FIGC si è vista, perciò costretta ad emettere un comunicato, in cui ha preso le distanze dall'uscita pubblica di un avvocato molto noto negli ambienti del calcio, Francesco Maglione, che è stato presentato come consulente esterno della federazione. Ha parlato a più riprese anche l'avvocato Morescanti, che ha avuto un ruolo nella stesura del Trust, come a suo tempo ci tende a rimarcare il DS Granata, Angelo Fabiani, e alla fine ha parlato anche lui, che ha dispensato serenità e definito ingiustificato l'allarmismo che c'è in giro. Beh, a meno di un mese dalla scadenza posta al Trust, escottati da mesi e mesi di trattative naufragate, che i tifosi siano un po' preoccupati e più che comprensibile, che poi i tempi della risoluzione, si spera, della vicenda legata al cambio di proprietà del club Granata, siano quelli che in tanti avevano previsto, nessuna sorpresa. Anzi, tutto procede come da copione. La tranquillità ostentata dal dirigente Granata dipendente dell'OS Saleritana, che è cosa diversa dal Trust Salerno 2021, fa parte anche del gioco, in fondo. A lui tocca il ruolo del pompiere. Ma una cosa non è chiara. La cessione della Saleritana è compito dei trasti che stanno agendo con la massima riservatezza. Ed allora, come si spiega questo coro che si è elevato in questi giorni, composto da più voci e persone che da tutto il mondo assicurano che esistano offerte, che la documentazione sarà completata e che tutti verranno felici e contenti? Tutti chi poi? Anche questo andrebbe chiarito. Un punto resta fondamentale, dunque, Salerno. Forse si sta per lasciare alle spalle un periodo di oscurantismo legato alla gestione non solo della società Granata, ma anche legato all'immagine, al modo di relazionarsi con la realtà sociale e civile circostante. Il futuro dovrà segnare una frattura, una brusca interruzione rispetto alla linea fin qui tenuta, seguita, se non imposta, almeno così recepita da chi ha voluto far parte del giro, illudendosi di essere parte di un equipaggio ed ignorando invece di essere semplice ciurma. Per tutto ciò che ha accompagnato le alterne vicende sportive dell'US Sederitana 1919 in questi anni, per tutto ciò che è stato in questi anni alla gestione, dovrà far da compagna la liberazione. Nulla di personale nei confronti di questo o quel protagonista della recente storia Granata, nella maniera più assoluta. Il punto è che se deve iniziare una nuova fase per la vita della Sederitana, occorre cambiare tutto per evitare che si ritorni indietro nel tempo. Infine, una nota a margine. In questi giorni, presa da altri problemi, la classe politica saleritana non si è espressa. In fondo è stato anche giusto così. Forse, col senno di poi, avrà compreso quale grosso errore abbia commesso a giugno scorso, quando paventò azioni legali contro la FIGC, avallando di fatto la scelta del Trust. Per il futuro l'auguro è che nessuno faccia invasioni di campo, che non si mischino più i piani e i ruoli che i politici facciano gli amministratori pubblici e null'altro. Di certo è lecito sperare che Salerno ritrovi in toto una sua coscienza di popolo, che non si faccia più incantare da questo quel personaggio, che non baratti più la dignità collettiva con nulla. Perché nemmeno la Serie A, se fatta come la si sta affrontando adesso, giustifica baratti o compromessi. Ora bisogna augurarsi che chi di dovere vigili, chi ha il mandato a vendere, lo porti a termine e che chi non ha titoli abbia la decenza di tacere. Una volta avvenuto il passaggio di consegne, sia chiaro, fin da ora non si dovranno fare sconti a nessuno. In primis, ai nuovi padroni del vapore. Saranno infatti, come sempre, l'unico metro di giudizio. Grazie a tutti.